La senatrice PD Monica Cirinà ha scelto di appoggiare la candidatura a sindaco di Roma di Roberto Qualtieri, ex ministro DEM dell'economia, ritirandosi dalla competizione delle primarie democratiche. Ad annunciarlo è stata lei stessa durante la trasmissione un giorno da pecora di martedì su Rai Radio 1. Una decisione, ha spiegato Cirinà, maturata in autonomia per favorire la vittoria di Qualtieri in vista del 20 giugno prossimo, data in cui i simpatizzanti e iscritti PD sono chiamati a scegliere il candidato per la corsa al Campidoglio. Il passo indietro della senatrice, passionaria delle battaglie per i diritti civili e madrina della legge che ha istituito le unioni civili nel 2016, cambia lo scenario delle primarie DEM. Cade una candidatura di peso che avrebbe potuto sottrarre non pochi voti all'ex ministro. In molti hanno contestato l'assenza di donne nella lista dei candidati. In Lizza, oltre a Gualtieri, ci sono infatti Giovanni Caudo, Tobia Zevi e il consigliere regionale Paolo Ciani. Oggi però è arrivato il nome della candidata femminile. Si tratta di Cristina Grancio, che correrà per il PSI. Gualtieri ha annunciato inoltre che il ruolo di vice sindaco sarà ricoperto da una donna.